Nelle ultime ore nelle acque del Lido di Porto Palo di Menfi, in provincia di Agrigento, è arrivato un gommone con a bordo alcuni migranti verosimilmente di origine tunisina. Sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia della stazione Carabinieri di Menfi impegnata in un servizio di prevenzione. Durante i controlli i militari hanno bloccato cinque migranti che sono stati accompagnati presso la compagnia Carabinieri di Sciacca per il rilevamento delle impronte digitali. Prima delle operazioni di identificazione i soggetti sono stati sottoposti ai previsti accertamenti sanitari, ma uno dei migranti, appena terminata la visita medica, ha subito tentato di fuggire nei corridoi dell'ospedale di Sciacca, cercando di confondersi tra alcuni pazienti, venendo però raggiunto e bloccato dai militari dell'arma. Dai successivi controlli incrociati effettuati nelle banche dati, tra i diversi alias dichiarati, i Carabinieri hanno estrapolato un profilo dettagliato nei confronti dell'uomo che aveva cercato di scappare. Si tratta di un 49enne tunisino ricercato su tutto il territorio nazionale, poiché destinatario di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Monza in quanto responsabile del reato di evasione. Al termine delle operazioni pertanto è stato arrestato, adesso si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.